Amici di Youtube, ben trovati da Marco Liguori, in questo video parliamo di un lutto per la televisione italiana e per Mediaset, parliamo di una triste storia, di un personaggio straordinario, forse non abbastanza celebrato sia dalla televisione che dal mondo in generale, e prima di iniziare vi ricordo che, qualora questo video dovesse superare i 700 like, le pubblicherò immediatamente uno nuovo, qualche giorno fa è scomparsa Laura Boe, inviata di Striscia la Notizia, era scrittrice, autrice di commedie, era anche un personaggio molto importante all'interno dello staff della trasmissione di Antonio Ricci, girava l'Italia con il famoso inviato, Max Laudaddio, Laura Boeri girava con il famoso inviato e spesso si batteva per i diritti dei diversamente abili, ricordiamo che la stessa Laura Boeri era disabile, tutta la redazione di Striscia la Notizia la ricorda come una persona fantastica, una persona carismatica, una persona che faceva del bene a tutti, come detto, una persona forse poco celebrata, ma che ci lascia sicuramente una grande eredità morale, amici di Youtube, grazie per l'attenzione, lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video, ciao a tutti. Grazie 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 Grazie